cari amici oggi è sabato e come ben sapete se chi ha telepass ha la possibilità di poter ricaricare gratuitamente sia nelle colonnine enelix e sia nelle colonnine bicherge per cui anche noi abbiamo approfittato di questa occasione siamo qui in piazza grandi a milano e siamo arrivati con la carica a 39 mi sembra e abbiamo avuto la fortuna di trovare quella veloce partita alla grande era partita con 45 kilowattora di ricarica adesso sta facendo il bilanciamento vi faccio vedere io nel frattempo vedete al 99 per cento potenza di ricarica bassissima 1 e 3 ma non interessa perché tanto sto aspettando mia moglie e niente insomma aspettiamo che arrivi al 100 il bilanciamento e anche un'ora e 43 direi che è il caso di poi lasciare libera la la colonnina chiaramente qui aveva caricato una jeep un a 4 kilowatt a 3 kilowatt una plug in e invece qui si viaggiava alla grande ripeto con una velocità di 49 iniziale per cui diciamo che anche quest'anno anche questo sabato abbiamo sfruttato il nostro abbonamento telepass ricordo che chi ha l'abbonamento telepass potrà usufruire di questa agevolazione fino per tutti i sabati fino a marzo compreso per cui direi che ne vale veramente la pena aspettiamo vediamo se è arrivata vedete che è bassissima 1 e 2 energia ricaricata un bel 29,20 kilowattora se facciamo il calcolo a 0,50 che è il costo della bicherge quella veloce arriviamo a un bel 15 euro risparmiati dai va bene adesso come arriva la moglie che è andata al coin come arriva la moglie stacchiamo comunque un saluto a tutti da a fabio mister farox qui a milano piazza grandi ciao ciao